Veronica Peparini e Andreas Muller stanno vivendo un momento di grande gioia e attesa, trovandosi ora in una fase tranquilla dopo un periodo di preoccupazioni. La coppia, all'ottavo mese di gravidanza delle due gemelline, si gode dolci momenti insieme, comodamente seduti sul divano di casa. È Andreas, il ballerino, a condividere alcuni scatti con la sua compagna, mostrando la loro felicità nell'attesa delle piccole. L'ex vincitore di Amici, ora entusiasta papà, fa ascoltare alle gemelline della «buona musica», come ama sottolineare lui stesso. Veronica, la coreografa, non vede l'ora di conoscere le sue bimbe. Nonostante qualche piccolo disagio dovuto al peso del pancione, lei si sente in uno stato di grazia, considerando questa gravidanza un dono divino. Andreas, ancor più felice, canta alle bambine che stanno per arrivare, facendo sentire loro la dolcezza della sua voce. Iscriviti al canale per avere aggiornamenti. Attiva la campanella e non perderti altri video. Un saluto da Gossip Ita News.